Ok, volevo ricordare che Locate, siccome non ha una seconda ragazza, c'è il ragazzo che farà due giri. Questo poi comporterà comunque all'arrivo un'organistica del fatto del comitato, perché comunque la posizione sarà sottoposta a un subgiudice, perché in realtà decideranno se penalizzare. Questo chiaramente non voglio provare, però ve lo dico perché se vedete ricordare i prodivocati ci hanno avvisato. Poi verrà deciso cosa fare, questo per la trasparenza. Lasciate libero passaggio, grazie. Vediamo adesso il primo passaggio, vediamo di iniziare le versi in fondo. C'è davanti il ragazzo di Locate. Seguita dalla ragazza di Abbiate. E dietro abbiamo spaiate la ragazza di Locate e Menegora. E dietro abbiamo spaiate la ragazza di Locate e Menegora. Grazie. 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 Seguite da ragazze liberate, un forte applauso per tutti i ragazzi, è l'ultimo passo, fate piano, parte l'ultimo pazionista, ok, via, vai, vai, vai. Grazie a tutti. 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 Silvio. 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 Uno di un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Bravo. Bravo. Le avete seminati. bravo bravo bravi bravi bravissimi bravi sono arrivati tutti bravo 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 bravo